Parliamo nuovamente di messa a fuoco. Nel video di oggi vado a mostrarvi come sia possibile realizzare una fotografia di gruppo, quindi con più di una persona, mantenendo lo sfondo completamente sfocato. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per aziende. Nel corso del video di oggi vado a mostrarvi delle fotografie che sono state realizzate proprio per delle aziende in occasione di una fiera. Nella fattispecie sono state realizzate delle fotografie singole e delle fotografie di gruppo. Come vi faccio vedere in questa immagine la fotografia di gruppo comprendeva più di una persona, tutte le persone nella fotografia sono perfettamente a fuoco. Ora questa fotografia che ci crediate o meno è stata scattata con un 85 mm f1.4 con un diaframma di f1.4. Quindi come è stato possibile, come ho fatto a mantenere tutte le persone a fuoco in una fotografia con un diaframma così aperto? Sappiamo benissimo che quando si scatta con diaframmi aperti la profondità di campo, ovvero per chi non masticasse tanto di fotografia, la porzione di fotografia che rimane a fuoco è infinitesimale, il che significa che quando io faccio un ritratto metto a fuoco l'occhio della persona che ritraggo, il naso e l'orecchio sono già fuori fuoco, perché si trovano su piani di messa a fuoco differenti. La messa a fuoco è una distanza sostanzialmente, per cui io devo tenere conto della distanza a cui si trovano i vari oggetti e proprio qui si trova il trucco per mettere a fuoco correttamente più persone o più oggetti o animali o qualsiasi altra cosa in una fotografia con diaframmi molto aperti. Prima di addentrarci nel succo di questo video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, il bottone dovrebbe essere qui sotto da qualche parte. Vi ricordo anche di lasciare un like a questo contenuto perché voi non ve ne accorgete ma mi state dando una grossa mano a far crescere il mio canale. Molto bene, comincio col dirvi che se siete interessati all'85 mm in generale e in particolare all'85 mm f1.4 di Canon ho già un video in cui faccio unboxing, recensioni varie, eccetera eccetera, ve li lascio linkati da qualche parte. Parlando di messa a fuoco ho già fatto anche un video in cui vi spiego come si fa a mettere a fuoco più persone. Nel corso di quel video io andavo a spiegare che per avere la certezza matematica di mettere a fuoco tutte le persone e quindi di non avere delle persone che rimangono sfocate perché si trovano più avanti o più indietro, la cosa migliore da fare è chiudere il diaframma. Ovviamente nel momento in cui noi abbiamo più soggetti, vi faccio un esempio banalissimo, la mia mano la vedete lievemente sfoccata perché è su un piano di messa a fuoco diverso rispetto alla mia faccia. Lo sfondo, parimenti, è sfoccato perché è su un piano di messa a fuoco diverso rispetto alla mia faccia. In questo momento è a fuoco la mia faccia. Quindi c'è poco da fare. Tutto quello che non si trova a questa distanza dal frontale del mio obiettivo non sarà correttamente a fuoco. Ecco che allora per mettere a fuoco correttamente più cose io vado a chiudere il diaframma. Quindi vado a impostare la mia fotocamera a f5.6, f8, magari anche f13, in casi estremi addirittura f16, f22. In questo modo aumento la profondità di campo e riesco a mettere a fuoco una cosa che è abbastanza vicina e una cosa che è più lontana. Chiudendo il diaframma otteniamo questo effetto. Andiamo a prolungare la profondità di campo e mettiamo quindi a fuoco più cose anche che si trovino su piani di messa a fuoco differenti. Però facendo questo che cosa succede? Ovviamente se io aumento la profondità di campo e quindi magari metto a fuoco sia la mia mano che la mia faccia, cosa che in questo momento come vedete non mi riesce, se io faccio questo giochino che cosa succede? Che anche lo sfondo sarà più a fuoco. Adesso vedete che lo sfondo è tutto bello sfoccato, se io aumento la profondità di campo chiudendo il diaframma ecco che anche lo sfondo sarà più presente nella nostra immagine. Ma io non lo voglio presente nella mia immagine, in questo caso io voglio che lo sfondo sia stramaledettamente sfocato perché anche se ho una foto di gruppo voglio staccarla dallo sfondo. Perenne motivi, perché lo sfondo non mi piace, perché lo sfondo è disordinato, perché voglio più enfasi sui soggetti. Quindi ci sono mille motivi per cui voglio uno sfondo sfoccato. Come si fa a realizzare una fotografia di gruppo con uno sfondo sfoccato? Beh, come vi accennavo prima, la messa a fuoco è sostanzialmente una distanza. È misurabile proprio in distanza, tant'è che sui barilotti di molti obiettivi c'è indicata la distanza. Quindi c'è indicato un metro, un metro e mezzo, tre metri infinito. Abbiamo delle distanze che corrispondono a un punto nello spazio in cui si colloca il nostro punto di messa a fuoco. In questo momento il punto di messa a fuoco è sul mio occhio e quindi, ve lo dico, praticamente è a 80 centimetri dal frontale dell'obiettivo. In questo momento la mia messa a fuoco è 80 centimetri. Se io metto la mano qui, in questo modo, e mi copro la faccia, adesso il punto di messa a fuoco è cambiato. Vedete, adesso è a fuoco la mia mano e quindi adesso il punto di messa a fuoco sarà, non lo so a mente, non riesco a calcolarlo, a mente sarà 50 centimetri, 40 centimetri, adesso è tornato sugli 80. Quindi la messa a fuoco è una distanza. Ecco che se io riesco a mantenere le persone sulla stessa linea, molto vicine tra loro per quanto riguarda la distanza, riesco a metterle a fuoco tutte quante contemporaneamente. Che cosa intendo con questo? Intendo dire non che devono essere vicine orizzontalmente, ma che devono essere vicine per quanto riguarda la profondità. Se io metto una persona qui e l'altra persona sta dove mi trovo io, ovviamente una delle due non sarà a fuoco. Ma se le persone sono esattamente affiancate, vedete, in questo momento le mie mani sono esattamente alla stessa distanza della mia faccia e quindi risultano a fuoco. Ecco il segreto per fare una fotografia come questa. Le persone devono trovarsi perfettamente in linea e la parte che vogliamo mettere a fuoco, che di solito sono gli occhi, devono essere tutte equidistanti dal nostro obiettivo. Ovviamente è una cosa che è difficile da fare, soprattutto con delle profondità di campo molto risicate, ma noi siamo fortunati perché esistono dei momenti in cui questo è possibile e viene molto molto naturale. Nell'esempio che vi porto io si tratta di fotografia per aziende, quindi mi rendo conto che è un caso un po' particolare. Nella vita di tutti i giorni le persone magari sono più scherzose, hanno meno voglia di mettersi lì ingessate e magari sono un pochino più spontanee, quindi si muovono, fanno cose, interagiscono tra di loro e questo ovviamente ci impedirebbe di portare a casa un'immagine come quella che vi faccio vedere. Nel caso di una fotografia aziendale o di una fotografia posata, se è per quello, perché nel momento in cui le persone sono in posa possono mettersi come il fotografo gli dice di mettersi, in caso in cui la fotografia sia posata e statica noi abbiamo la possibilità, in maniera molto semplice senza neanche stare lì a prendere le misure, abbiamo la possibilità di individuare magari una riga sul pavimento. Nel mio caso c'era un pavimento che era composto da blocchi di cemento, anche piuttosto bruttini, però le righe sul cemento mi sono servite per dire ragazzi, adesso voi mettete le punte dei piedi in corrispondenza della riga e quindi più o meno, a meno che non ci sia un giocatore di basket che ha un 47 di piede, i piedi delle persone più o meno sono grandi uguali e quindi ci troviamo con le persone che sono esattamente appaiate. A questo punto riusciamo mantenendo un diaframma abbastanza aperto come in questo caso, riusciamo a fare un ritratto mantenendo a fuoco tutte le persone e mantenendo un bello sfocato sullo sfondo. Nel mio caso io vi dico che questa foto è stata scattata a f1.4, quindi il diaframma massimo che la mia ottica mi consentiva. È stato un po' un azzardo, certamente è un azzardo perché basta che una persona respiri e vada un pelino indietro ed è già fuori fuoco. Per questo motivo gliene ho fatte 4 o 5. Su 4 o 5 foto sono relativamente sicuro che più o meno ce ne saranno almeno un paio in cui sono tutti correttamente a fuoco. Se anche così non dovesse essere è assai probabile che se qualcuno si è mosso non l'abbia fatto sempre la stessa persona in tutte e cinque le foto, quindi a quel punto è possibile fare un merge delle immagini e quindi prendere una fotografia dove sono tutti giusti tranne una persona e quella persona che è venuta sbagliata si ritaglia la sua faccia da un'altra foto in cui è venuta giusta e la si incolla sopra. Sono già in posizione, la luce è uguale, quindi è un lavoro di cesello su photoshop che porta via pochi secondi. Nel mio caso vi dico che non è assolutamente stato necessario perché vuoi che le persone si erano allineate correttamente, vuoi che sono di statura e corporatura non troppo dissimile, sostanzialmente non ce n'è stato bisogno per cui le persone erano già correttamente a fuoco in praticamente tutti e cinque gli scatti. Nonostante io stessi scattando con una Canon 5D Mark II, quindi una fotocamera vecchia, una fotocamera con un sistema di messa a fuoco che non è al passo con quello a cui siamo abituati oggi. Se vi dovesse interessare quella macchina ne ho parlato in un video recente, ve lo lascio linkato anche questo da qualche parte, andatevelo a recuperare sul canale, gran bella macchina. Che cosa può andare storto nel momento in cui cerchiamo di realizzare una fotografia di questo tipo? Possono andare storte un sacco di cose. Ovviamente questa è una fotografia che può riuscire ma solamente se si allineano gli astri e se tutto viene fatto esattamente come vi ho detto, quindi le persone devono essere perfettamente allineate e non devono muoversi, perché se le persone si muovono, interagiscono fra di loro, saranno tutte fuori fuoco. Ce ne sarà magari a fuoco una sola, le altre saranno tutte completamente sfocate. Quindi questa è una cosa che è possibile fare solamente per fotografie molto molto posate. Un'alternativa, un'alternativa che vi propongo, che è una cosa che io non amo però si può fare, è di fare focus stacking. Sì, si può fare focus stacking anche sulle foto di gruppo. Quindi avremmo potuto mettere la fotocamera su tre piede e avremmo potuto mettere a fuoco prima una persona, poi l'altra persona, poi l'altra persona ancora. In questo modo andiamo poi a unire le tre o n foto a seconda di quante persone ci sono, andiamo a unirle in Photoshop e abbiamo una fotografia dove tutti quanti risultano a fuoco pur mantenendo lo sfondo super sfocato. Una cosa del genere è meglio farla su tre piede, è possibile farla anche a mano ma viene meno bene. Però io sono dell'idea che perché complicarsi la vita nel momento in cui è possibile farlo perché le persone sono collaborative e capiscono che cosa stai cercando di fare e quindi si mettono in quella posizione, in quella posa e ci rimangono, allora viene tutto perfettamente. Se l'ambiente, le persone con cui stai lavorando non sono tali da poter creare questo tipo di posa, di ambientazione, tanto vale chiudere il diaframma e rinunciare a un pochino di sfondo sfocato. C'è anche un'ultima possibilità che a me piace ancora meno ma ve la butto lì perché non si sa mai. Noi possiamo realizzare la fotografia del nostro gruppo di persone con un diaframma giusto, quindi andiamo a chiudere magari a f5.6 così siamo sicuri che le prendiamo tutte a fuoco. Dopodiché riapriamo a f1.4 e facciamo una foto dello stesso punto mantenendo la stessa distanza di messa a fuoco, dalla stessa posizione e quindi facciamo una foto del fondale sfocato. Dopodiché in Photoshop andiamo a scontornare le nostre persone e gli mettiamo dietro il fondalone sfocato che abbiamo catturato. Questa è l'opzione che a me piace meno di tutta in assoluto, sia perché non è detto che venga bene, sia perché ti porta via un sacco di tempo in post produzione. Quindi io sono dell'idea che o la fai giusta o non la fai. A questo punto fatemi sapere qui giù in un commento voi che cosa ne pensate, di che tipo di scuola siete, è meglio farla giusta in camera oppure va bene anche smagheggiare in Photoshop. Non lo dico tanto come filosofia, lo dico per una questione di tempo perché a me non piace perdere tempo sul computer in Photoshop una volta tornato a casa. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto in un commento, vi ricordo anche di iscrivervi perché spesso e volentieri rispondo ai vostri commenti con degli shorts verticali. Signori, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.